il corso di gym box era cresciuto parecchio benissimo bene c'erano abbiamo avuto perché la fase di pandemia si è svolta in due stagioni praticamente in tutte e due le stagioni avevamo due bei gruppi di di atleti tra l'altro giovanissimi e quindi prometteva molto purtroppo la situazione la conosciamo tutti non è non è potuto la cosa non andata non si è potuta svolgere in maniera normale va beh il passato è passato speriamo almeno dal dal prossimo anno da settembre di ripartire sempre con le stesse condizioni diciamo e di andare avanti racconti la gym box esattamente qual è quali sono le sue peculiarità ok la la gym box diciamo che può essere vissuta con più filosofie diciamo da parte dei giovanissimi chiaramente è molto è mirata a essere un'attività propedeutica al proprio al pugilato principalmente però poi tanti giovani trovano la loro dimensione proprio in quella nella gym box quindi senza contatto pieno con tutte quelle quelle cose lì però hanno sempre l'adrenalina riescono a crescere a far bene a imparare eccetera eccetera e per diciamo invece per gli atleti un po' più ovvero un po' più avanti l'amatore classico però anche lì li trova quelle quegli stimoli che che sono necessari per frequentare la palestra e andare avanti quindi diciamo che in sostanza la gym box è un'ottima cosa soddisfa un po' tutte queste esigenze che ho appena detto che è un'ottima cosa